un saluto dal vostro capitano sant'e chan faccio questo video che è una errata errate corrige una correzione di dati per correggere quanto detto da me almeno in parte in una premier che dovrebbe andare in onda il 3 dicembre una premier dedicata a sanremo 2021 innanzitutto dico che fiorello non vi partecipa in fase di edizione del video ho visto invece che fiorello vi partecipa insieme a amadeus che dovrebbe partecipare perché poi ho letto anche un'altra cosa che di sicuro posticiperanno l'inizio di sanremo dal 3 al 6 marzo a data a definire però che sarà o giugno o luglio e io questo nel video non lo dico perché non lo sapevo che posticiperanno la data di sanremo quindi faccio questo video per dirvi già da adesso che se vedete nel video che uscirà il 3 dicembre sempre che non gli cambi la data se vedrete delle gaffo degli errori che faccio e perché le informazioni che avevo io erano quelle avevo solo letto di amadeus non di fiorello che farà anche lui il conduttore ma l'incaricato di tutto sarà amadeus e perché avevo letto che saremo si farà come sempre invece poi è arrivata la risetta che non sarà più dal 2 al 6 marzo cioè quattro giorni ma che sarà o giugno o luglio sempre che si farà che si faccia magari con un pubblico non presenziale con il televoto il voto dal cellulare voto attraverso internet e reti sociali magari anche i cantanti non canteranno presenzialmente la giuria non sarà presenziale chissà come si farà non si andrà per la prima volta all'ariston magari canteranno da casa o da degli studi dove ci sarà molto spazio e poco personale comunque mi raccomando non vi perdete la premiere che dovrà andare in onda il 3 dicembre nella quale io il capitan santenchan vi parlo di san andremo adesso ho voluto fare questi chiarimenti perché avrei dovuto caricare un altro video ma visto che ci ho messo tanto tempo ad editarlo il video che uscirà come premiere il 3 dicembre allora faccio questi chiarimenti perché altrimenti lo so lo stesso mi direte nel video ma guarda che non inizia marzo ma guarda che c'è anche fiorello comunque faccio questo video per chiarire un po le cose arrivederci e a presto il vostro santenchan non lasciate di seguirmi ciao e guardatevi video che metto fra i suggeriti ciao che sono tutti i video suggeriti che riguardano sanremo anche le schede a fine riproduzione così vedrete tutto quello che ho fatto di sanremo durante questi anni o magari no vi metto altri video perché tanto ci sarà la premiere il 3 dicembre